Giunge così rapidamente come un fulmine a ciel sereno questa notizia del crack inaspettato della Credit Suisse che ha spaventato praticamente investitori, mercati, un po' tutto, scatenando così la corsa di conseguenza alla speculazione sui destini delle banche che sono più in difficoltà, prendendo di mira anche giganti, considerati quasi inattaccabili. Ebbene, in questo tiro al bersaglio, partito dal fallimento della Silicon Valley Bank, perché ha iniziato tutto da lì, è finita anche la Deteusch Bank che in una sola seduta pensate ha perso l'8,5% a 8,54 per azione, raggiungendo fino almeno 15% e trascinando con sé gli indici delle borse europee. Nonostante le contromosse immediate dirette a rassicurare gli investitori, la solidità del principale istituto di credito tedesco ha cominciato a scricchiolare e diversi analisti non escludono che possa diventare la prossima vittima eccellente dell'irrazionalità dei mercati. Uno scenario escluso dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, che al termine del Consiglio europeo ha affermato che il sistema bancario dell'UE è robusto e sicuro e possiede le strutture di controllo necessarie. Deutsche Bank è una banca molto redditizia. Non c'è motivo di preoccuparsi, ha aggiunto, ricordando che, negli ultimi anni, ha precisato il cancelliere tedesco, Deutsche Bank ha modernizzato e riorganizzato il modo in cui lavora. Il Consiglio europeo è stato molto chiaro nelle proprie conclusioni sul fatto che crediamo che le nostre banche siano resilienti, ha poi detto il presidente dell'Eurogruppo Paschaldonoo al termine dell'Eurosummit, rispondendo a chi gli chiedeva se il crollo in borsa dell'istituto di credito tedesco stia generando preoccupazioni. A margine del Consiglio europeo, anche la premier italiana Giorgia Meloni si è espressa sulle difficoltà delle banche in borsa. Parliamo di un sistema i cui fondamentali sono stabili e solidi, non mi pare ci siano particolari preoccupazioni. Mi pare che sia dalla relazione della presidente Lagarde, sia dalla relazione del presidente Donoho, sia dai contributi dei leader dell'Unione ci sia la consapevolezza di un sistema che in ogni caso ha i fondamentali solidi, ha spiegato la premier. Sicuramente bisogna monitorare e va implementata l'unione bancaria, ma non c'è preoccupazione, ha assicurato Giorgia Meloni. Per attenuare il calo dei propri titoli in borsa, la Deutsche Bank ha provato a richiamare 1,5 miliardi di obbligazioni subordinate. Una mossa, in un clima di insicurezza delle banche, interpretata come un segnale di difficoltà. Sulla banca tedesca pesa una massa consistente di vendite di obbligazioni senza scadenza ad uno, utilizzate dalle banche come cuscinetto contro le perdite e che sono lo stesso tipo di coco bond azzerati dalle autorità svizzere nell'operazione di salvataggio di Credit Suisse, avvenuta grazie all'acquisizione della rivale storica UBS. In questo quadro di instabilità, la Deutsche Bank è finita nel vortice dei fondi di investimento che hanno cominciato a comprare i Credit Default Swap, a cinque anni del colosso tedesco, prodotti finanziari che servono a coprirsi dal rischio del fallimento di una società, in questo caso di una banca, spesso usati proprio per fare speculazione. In questo modo gli hedge fund hanno guadagnato sia sull'aumento del prezzo dei derivati di assicurazione sul default della grande banca tedesca, arrivati di colpo a 200 punti base dai 134 di mercoledì, sia dal crollo delle sue azioni, provocato proprio dall'aumento dei CBS.